Il Consiglio regionale 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 della città, cercando di allontanare i propri alunni dalla strada, portandoli fuori dall'aula. È un modo per avvicinare i ragazzi all'apprendimento, alla legalità anche, perché i ragazzi attraverso queste attività imparano anche a stare insieme, a condividere delle esperienze ed è un riscatto per loro e soprattutto è importante tenerli a scuola, far sì che attraverso le attività, attraverso la scuola loro imparino a stare insieme, a relazionarsi e nel frattempo veicoliamo anche quello che è l'apprendimento. E per questa edizione è tutto, in chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet telebari.it, radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato infochiocciolelsegnodizorro.it Ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito. Ben trovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trabi Meteo, vi invito a restare sempre aggiornati con noi scaricando la nostra app per smartphone e tablet. Dall'Europa la bassa pressione e l'instabilità della parte settentrionale si sposta ed è in moto proprio verso sud, così anche le temperature saranno dal punto di vista delle massime in graduale calo mentre sono già piuttosto basse alle alte latitudini. In Italia peggiora soprattutto al nord-est e sulla Toscana con fenomeni moderati mentre andrà meglio come vedete altrove. Le minime restano stabili o comunque in graduale calo dal punto di vista termico le massime invece sono sì stabili ma in locale rialzo comprese tra 9 e 13 gradi al nord fino a 16-17 gradi ancora al centro-sud ed isole. Infine al sud abbiamo bel tempo prevalente sulle regioni adriatiche e ioniche un po' più variabilità sulle tirreniche con qualche possibile pioggia tra Campania ed Alta Calabria in serata, meglio anche sulle isole maggiori. Aggiornamenti su trebimeteo.com Grazie. Grazie.